Sì, effettivamente è freddo perché hanno aperto tutto e il tavolio è sudato. Allora, Alessandro, abbiamo giocato tre quarti obiettivamente male, piuttosto male. Puoi mettere l'ultimo bel risveglio sia della squadra che tuo? Noi ci abbiamo messo un po' d'adeguarti. Diciamo che avevamo fatto un piano partita contro di loro e non ci siamo riusciti a fare perché avevamo infrontato la nostra difesa soprattutto su Paolo Conti. Ci spettavamo una partita diversa da loro, loro senza Paolo sono dovuti mettere sempre la zona, quindi ci abbiamo messo un po' a prendersi le misure, però alla fine il nostro carattere e la nostra voglia di vincere è venuta fuori. Tu sei uno che di acqua sotto i ponti ne ha visto passare tanto, credo che sarai d'accordo con noi che vincere giocando partite non certamente brillanti è sempre un ottimo segnale. Quello sì, l'importante è vincere, se vinci giocando male è sicuro che se giocassi bene come la squadra partita. Bene, ringraziamo Alessandro Davorio.